Siamo in zona via Camporomano, qui avvengono i controlli per quanto riguarda i piloni che dovrebbero essere messi per il passaggio della cabinovia. Alle mie spalle sono state posizionate queste due macchine per lanciare un forte messaggio dai residenti ai tecnici stessi. Noi la cabinovia non la vogliamo. Il gesto è proprio simbolico, sta a dire, cari ragazzi, questa proprietà è privata, non potete fare quello che volete e soprattutto senza dirci cosa volete fare. Perché noi dobbiamo anche regolarci, cioè la proprietà privata è sacca fino a un certo punto. Viaggio di Telequattro in via Camporomano e zone limitrofe vicino a Piccina. È qui che i tecnici incaricati di fare rilevazioni fotografiche sono venuti controllando casa per casa. Il tutto è iniziato alle 9.30 circa. Monitoraggi propedeutici a capire il posizionamento dei piloni per il tragitto della cabinovia. Residenti e ragazzi appartenenti a vari collettivi si sono ritrovati in largo Bertolini per poi seguire il percorso dei tecnici scortati dalla polizia locale che procedevano con le rilevazioni. Sul posto anche carabinieri e polizia di Stato per assicurarsi che il tutto si svolgesse tranquillamente. E così è stato, ma gli abitanti della zona ormai sono sul piede di guerra e le loro macchine sono state posizionate per bloccare alcuni passaggi. Mi hanno fatto smontare una piscina alta un metro e trenta perché siamo in zona ambientalistica e vogliono fare i piloni alti 15 metri? Com'è sta storia? Io sono un cittadino, non sono un suddito. Lei dove abita precisamente? Abito a Camporomano 32. E questa cosa che le vengono i tecnici in casa, cosa ne pensa? A me non piace. Mia figlia assolutamente, anche lei in viperita, anche perché ho fatto dei lavori in giardino e roba simile, ma non vedo un interesse pubblico. Come pensa il sindaco di rientrare nelle spese? Lui pensa che gli opicinesi molleranno la 4 e la 2, che arriva in 10 minuti giù, per prenderlo via, per andare appena nella zona banale, per poi prendere un altro autobus per andare a lavorare. Deve avere turisti ogni giorno, una migliaia di turisti al giorno. Bisogna ancora far luce sul perché del parere negativo della soprintendenza al progetto. Bisogna ancora capire se davvero la cabinovia si farà. Intanto la voce del no continua a farsi sentire. Questo tracciato che è un'opera molto, molto impattante, perché oltre tra i ricci ci sono 14 metri di sboscamento, questi 14 metri passano anche sulle case delle persone. Mettiamoci d'accordo, evitiamo questo scempio, evitiamo quest'opera dannosa, imponente ed impattante. Grazie. 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 Grazie.